Partito il conto alla rovescia per l'uscita di Suburreterna in streaming su Netflix dal 14 novembre 2023. Parliamo dell'atteso sequel ispirato al romanzo sul mondo della corruzione di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, dal quale sono nati già un film e una serie tv. Era infatti il 2017 quando la prima serie originale italiana targata Netflix debuttava sul colosso dello streaming. Da allora di Suburreterna sono uscite altre due stagioni, di cui la seconda nel 2019 e la terza nel 2020, per un totale di 24 episodi. Ma è alla fine del terzo capitolo che viene annunciato l'arrivo di un nuovo progetto destinato a essere sia il sequel della serie originale, che lo spin-off dell'omonimo film di Stefano Sollim ha uscito nel 2015. Ancora una volta Stato e Chiesa si scontrano nella solenne cornice della capitale. Ma chi sarà questa volta il re di Roma? Solo il crimine è più eterno di Roma. Questo il testo con cui si apre il primo trailer ufficiale di Suburreterna rilasciato da Netflix lo scorso 19 settembre. sottofondo, scorrono le prime immagini tra discoteche e sparatorie, mentre una una voce profonda si rivolge proprio a Spadino. Adesso fa il primo trailer ufficiale di San Antonio a Spadino di San Antonio a Spadino, scontrano, 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 scontrano.